E' in arrivo Laboratori dal Basso, la nuova iniziativa di arti e bollenti spiriti per i giovani pugliesi che vogliono portare in alto le loro idee, imparando a fare impresa secondo i principi di sostenibilità sociale, economica e ambientale. Laboratori dal Basso prevede tre diverse azioni. I laboratori sono percorsi d'apprendimento ideati da giovani imprese e associazioni pugliesi che si mettono insieme per imparare cose utili a far crescere la loro attività. Se vuoi organizzare un laboratorio, scegli un argomento da approfondire e cerca altre organizzazioni con le tue stesse esigenze. Insieme individuate i migliori docenti da invitare, definendo, se possibile, il luogo dove svolgere le attività e un programma di massima. L'arti vi aiuterà a realizzare il laboratorio e si occuperà dei costi e dell'organizzazione delle docenze. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti. I materiali didattici vengono condivisi sulla piattaforma di Laboratori dal Basso. Così, insieme alla tua idea, puoi far crescere tutto il territorio. Testimonianze è l'iniziativa che aiuta i giovani pugliesi a incontrare i protagonisti dell'imprenditoria e dell'innovazione. Se vuoi proporre una testimonianza, cerca altre persone o organizzazioni con i tuoi stessi interessi e scegliete insieme un relatore da invitare. Indicate, se possibile, il luogo e la modalità di svolgimento dell'incontro. L'arti vi aiuterà ad organizzarlo e sosterrà i costi per l'intervento del relatore. Le testimonianze sono eventi gratuiti e aperti a tutti, vengono trasmesse in streaming e restano disponibili sulla piattaforma Laboratori dal Basso. Così, se organizzi un incontro, diffondi conoscenza e innovazione in tutto il territorio. Mentoring è l'iniziativa che fa incontrare giovani imprese e associazioni pugliesi con imprenditori esperti che si offrono di aiutarle nella fase di start-up. Se hai un'esperienza imprenditoriale di almeno 5 anni in un settore ad alta densità di conoscenza, puoi iscriverti come mentore sulla piattaforma Laboratori dal Basso. Potrai mettere le tue competenze a disposizione di uno o più progetti di giovani che operano nel tuo stesso settore anche attraverso forme di affiancamento a distanza. Se invece fai parte di un'associazione o di un'impresa giovanile attiva in Puglia da non più di 5 anni, attraverso la piattaforma puoi richiedere il sostegno di un mentore. L'Arti si occuperà di far incontrare la domanda e l'offerta di conoscenza. Così le competenze dei più esperti faranno crescere le idee dei più giovani e tutto il territorio. www.laboratoridalbasso.it